E quando lavorate cosa facessi? Quando lavoravo facevo il notaio Un notaio in pensione ragazzi Uomo ricco, amici, picco E infatti, benissimo E come potresti la tua donna ideale? Allora, la sua donna ideale è la sua ex impiegata che ha portato qua a questa sera Ma lei non sa Non sa che tu mi sei la sua donna ideale Ti ho regalato una casa? Non sa che tu mi sei la sua donna ideale Ma ti dice che non è vero Ma ti ha regalato una casa, è vero? Non ci vuole sbiraggiale Ah sì, eh? Certo che ora capisci Il notaio non rinunca il altro È un classico È un classico Che meraviglia A tre mesi Chi è che viene alle 10? Buon appetito, eh? Eh sì Questi vengono alle 10 Ah sì, vengono? Alle 10 Ok Benissimo Sì Ascoltate Allora, grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti